Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Udinese Juventus 6 a 2 Partita che si è conclusa due ore fa La Juve ha vinto 6 a 2 Dopo aver essere andato in disinvantaggio Abbiamo combattuto e abbiamo vinto 6 a 2 Non so come era possibile questa cosa Però abbiamo fatto una cosa che era incredibile Abbiamo vinto 6 a 2 E penso che ci siamo meritati di vincere 6 a 2 E poi Maggio Chichi è andato espulso Quindi questa è l'unica cattiva cosa Le altre cose sono cose belle Abbiamo vinto 6 a 2 Dopo aver essere andato in disinvantaggio Una volta E poi abbiamo vinto 6 a 2 Con l'ultimo gol è andato Pjanic E doppietta di... Che pietta di... Che dire Quindi che bella partita Non me lo sarei mai aspettato che finiva 6 a 2 Abbiamo praticamente distrutto l'Udinese Pezzo per pezzo E l'avevo un po' umiliato Perché è l'unico gol che ha segnato Quando io pensavo... Quando l'Udinese pensava di essere... Di potercela fare quando ha fatto il 2 a 2 Poteva tenere il 2 a 2 Ma però non ci ha fatto Quindi abbiamo vinto 6 a 2 La migliore partita della Juve Che è terza in campionato Vittoria contro la spalla Cosa che è molto 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 probabile Ci fa andare primi Quindi cerchiamo di tenere questo... Eh... L'uogo di vittoria... Alto Cerchiamo di vincere tutte le partite che abbiamo E... E ciao